Però per chi è un sostenitore della necessità di approfondire le questioni, perché ormai sembra che sia patrimonio soltanto di alcuni, il fatto che ci sia una revisione all'1,2 delle previsioni di crescita è un fatto di serietà. Il fatto politico è questo, l'Italia cresce. È partita di qui, meno 2,3, meno 1,9, meno 0,4, più 0,8, più 1,2. Questi sono i numeri. Ce l'avevamo anche a colori, ma non volendo stupirvi con effetti speciali abbiamo scelto questa che è tranquilla, in bianco e nero, molto grigia, molto burocratese. Questa è la realtà. Paduan poi ve la dice ancora meglio e vi dice che la crescita accelera del 50% rispetto al 2015. Detta in linguaggio semplice, nel 2016 si sta meglio che nel 2015. Nel 2016 andremo meglio di come siamo andati nel 2015. Nel 2015 siamo andati meglio che nel 2014. L'Italia migliora.